Situazione delicata per Tui Travel, che tra ottobre e dicembre, periodo in cui di solito gli operatori turistici vanno in rosso, registra una perdita di 101,7 milioni di euro. L'azienda britannica ad ogni modo si mostra fiduciosa, nonostante un quadro geopolitico non accomodante, quest'estate le prenotazioni in Turchia sono crollate del 40% a causa degli attentati che hanno fatto vittime tra i turisti tedeschi e russi. Male anche Tunisia ed Egitto, le sempre più grandi frotte di vacanzieri in Spagna e Grecia però hanno portato Tui a confermare le previsioni di profitto.